La ricerca al lavoro per comprendere i meccanismi del cambiamento climatico nel nostro pianeta. Il sistema sta andando sempre in salita con il riscaldamento globale e la mano dell'uomo con i suoi comportamenti quotidiani sicuramente influenza questo procedimento con effetti futuri che potrebbero diventare devastanti e irrecuperabili. I prossimi anni saranno fondamentali per ridurre le emissioni e sarebbe stata individuata la soglia di un taglio di almeno il 50% delle emissioni rispetto al 1990 entro il 2030. I dati sono riportati nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030.